il prossimo ospite signori è un mito lui veramente fa la spola tra Teramo Roma e tantissime altre città italiane si esibisce veramente tanto lavora tantissimo perché piace tantissimo signori e signore questa sera per voi a music mania Antonio Sorgentone allora cosa ci fa ascoltare Antonio Sorgentone? Antonio Sorgentone ci fa ascoltare Deep Elm Blues On The Ash Sorgentone 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.